benvenuti cari amici un nuovo appuntamento con la vetrina dell'auto oggi siamo a como in via canturina 69 in una delle cinque splendide sedi di auto max concessionaria opel questo un punto di riferimento per como e varese loro sono sempre pronti per offrire il meglio a tutti voi per soddisfare tutte le vostre esigenze perché qui veramente troverete tante idee tante occasioni chilometri zero dovete veramente venire e vedere personalmente poi affidarvi a loro noi oggi faremo questo viaggio con lorenzo che saluto quindi ci troviamo a como come dicevi tu in via canturina 69 noi abbiamo cinque sedi quindi ci trovate nelle due province di como e varese ci trovate a como appunto in via canturina a varese in via le valganna a erba a cantù e olgiate comasco quindi ci trovate nelle cinque sedi auto max ricordiamo bravissima gli orari dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 14 alle 19 il sabato invece facciamo l'orare un pochettino più flessibile quindi ci trovate fino alle 19 e 30 e partiamo dalle 15 del pomeriggio l'altra cosa da sapere è il nostro sito quindi ricordiamo tutto il nostro sito che è www.automax spa.it e ricordiamo anche il nostro numero di telefono che è 031 311 0131 ecco importantissimo chiamateci così fissiamo gli appuntamenti e vi dedichiamo appunto il tempo con il venditore il consulente che rimarrà a vostra disposizione in modo da non creare assemblamenti che in questo periodo è sempre meglio fissare gli appuntamenti e avere i consulenti dedicati a voi la trasmissione di oggi signori sarà quasi tutta improntata sulle chilometri zero proprio perché clara noi in questo periodo abbiamo voluto fare anche qualcosina che potesse incentivare e aiutare a risollevarci da questo periodo che chiaramente è stato molto molto sofferto abbiamo targato circa 100 chilometri zero quindi questa trasmissione sarà improntata proprio sulle nostre 100 chilometri zero che avranno sconti fino al 50 per cento quindi un'offerta irripetibile fino al 50 per cento su vetture aziendali e fino al 40 per cento su vetture chilometro zero quindi ripetiamo sono 100 autovetture corsa crossland granland insignia abbiamo dei veicoli commerciali quindi venite a trovarci telefonate andate sul nostro sito perché è un'offerta davvero irripetibile opel automax con 100 chilometri zero a prezzi e sconti irripetibili andiamo a vederle andiamo come promesso partiamo subito parlando di opel corsa opel corsa disponibile con diversi allestimenti diverse motorizzazioni diversi colori quindi ripetiamo sconti imperdibili fino al 30 per cento fabrizio cosa ci dici su corsa corsa vi dico che lorenzo che abbiamo tante corsa gs line come questa con il tetto a contrasto quindi con il tetto nero i cerchi maggiorati da 17 il full led con motorizzazioni turbo fino a 130 cavalli col cambio automatico abbiamo anche le corsa elegance ideali sia per i neopatentati sia per chi vuole un tocco premium sulla sua vettura e abbiamo infine anche sconti interessanti e bellissime chilometro zero 100 per cento elettriche quindi la nuova corsa elettrica con il vantaggio chilometro zero si ha addirittura una scontistica maggiore rispetto a quello dell'incentivo statale per chi volesse avere il mezzo elettrico ma non dispone di un usato da rottamare ripetiamo quindi fabrizio una cosa importantissima solo su corsa e quindi corsa elettrica anche per coloro che non hanno la macchina da rottamare avranno gli stessi vantaggi economici quindi avrete sconti pari all'incentivo rottamazione anche senza avere la vettura da rottamare ricordiamoci opel corsa elettrica con sconti irripetibili quindi venite a provarla venite a trovarci e fissate i test drive quindi chiamate allo 031 311 0131 e quindi dopo aver parlato di opel corsa parliamo di opel crossland sempre con fabrizio che ci descriverà questi sconti irripetibili anche su crossland proprio così lorenzo grandi novità grandi sconti grandi occasioni anche per tutta la linea crossland abbiamo queste vetture chilometri zero appunto in tutte le nostre sedi tutti crossland hanno i fari full led hanno lo schermo touch per navigare con il telefonino e avere il carplay o l'android auto sono auto che in 4 metri e 20 ci danno uno spazio davvero incredibile sono molto generose a livello di abitabilità con bagagliai fino a 450 litri abbiamo i benzina abbiamo i 1500 diesel 100 cavalli abbiamo i diesel automatici i benzina automatici abbiamo anche i crossland x per chi vuole avere con le stesse caratteristiche una macchina ancora più vantaggiosa cosa sempre molto molto importante disponibili chiaramente in vari colori e varie tonalità quindi questa è la cosa da sapere ci sono anche i bicolor ci sono tantissime possibilità tante possibilità una cosa importante chiamateci guardate sul sito telefonata al nostro numero per fissare gli appuntamenti e i test drive perché anche per chilometro zero possiamo fissare i test drive quindi importantissimo nella macchina vogliamo farvela provare quindi telefonate allo 0 3 1 3 1 1 0 1 3 1 perché dobbiamo chiaramente fissare i test drive e farvi chiaramente visionare la vettura parliamo ora della nostra ammiraglia opel insigna disponibile anche questa con diverse motorizzazioni diversi allestimenti e soprattutto disponibile con le due versioni quindi versione sport tourer questa che toccate che stiamo toccando con mano oppure la versione gran sport sconti anche qua irripetibili fino ed oltre al 40 per cento perché su alcune macchine abbiamo sconti che superano il 40 per cento quindi offerte irripetibili fabrizio anche qua vuoi raccontarci qualcosina di insigna sì lorenzo ad esempio chi verrà a trovarci qui nella sede di como potrà visionare provare questa bellissima insigna innovation sport tourer diesel manuale da 136 cavalli con cerchio bicolor e fari intellilux a matrice un'auto molto elegante molto comoda per i viaggi lunghi con una grande spaziosità nei suoi interni e pensate un po' agli stessi livelli di emissione di co2 di una piccola utilitaria quindi un gran prodotto con consumi e prestazioni davvero eccezionali ecco tutte queste vetture le trovate sul nostro sito www.automax spa.it quindi andate a cercarle andate a vederle andate a trovarle perché sono disponibili come dicevo con diversi allestimenti diverse colori e diverse motorizzazioni e su insigna ricordiamolo lorenzo c'è uno sconto un vantaggio per i clienti addirittura fino al 40 per cento oltre il 40 per cento perché su alcuni prodotti siamo oltre il 40 per cento di sconto quindi venite a trovarci parlando quindi di veicoli a emissioni zero apriamo una piccola parentesi per il nostro vivaro e quindi veicolo commerciale 100 per cento elettrico totalmente elettrico questo veicolo è in pronta consegna batteria da 50 kilowatt ma è possibile averlo anche con una batteria da 75 kilowatt ricordiamo gli sconti straordinari 26 per cento di sconto più altri 4.000 euro per lo sconto rottamazione quindi se avete un veicolo vecchio abbiamo altri 4.000 euro come incentivo rottamazione quindi ricordiamoci veicolo commerciale vivaro è totalmente elettrico in pronta consegna solo da automax venite a trovarci parlando sempre delle nostre 100 vetture chilometri zero passiamo ora ad opel zafira life questo veicolo multifunzione versatile disponibile con allestimenti 7 posti o 8 posti su diverse motorizzazioni diversi allestimenti chiaramente come dico sempre diversi colori fabrizio cosa ci racconti su zafira dacci qualche informazione tecnica adesso davanti agli occhi del telespettatore c'è una zafira life edition cool gray con cerchio da mantato di serie sensori anteriori e posteriori con telecamera padiglione comfort per il clima posteriore volante in pelle multifunzione radio touch da 7 pollici e la praticità di otto posti per tutte le occasioni per tutte le esigenze con la possibilità di poter muovere seconda e terza fila tramite delle griglie quindi andare a scegliere esattamente lo spazio che volta per volta viaggio per viaggio dobbiamo dedicare a chi è a bordo oppure ai nostri bagagli quest'altro modello invece che vediamo nelle immagini è invece una zafira life elegance aggiunge alla dotazione che vi ho descritto i sedili in pelle la funzione massaggio nel sedile riscaldabile i fari allo xeno il doppio vetro panoramico e altre piccole diciamo dotazioni che si possono avere però su tutti i livelli e tutti gli allestimenti di questo veicolo davvero molto affascinante e comodo altra occasione irripetibile sempre per quanto riguarda i veicoli multifunzione c'è la possibilità di avere un nove posti opel vivaro life nove posti con sconti fino a 11 mila euro quindi veicoli multifunzione nove posti vivaro life con sconti fino a 11 mila euro ben lorenzo complimenti perché ci avete stupito abbiamo visto vetture una più bella dell'altra promozione uniche imperdibile proprio dovete venire di corsa bene bene sono contento di averti stupite spero di avere chiaramente stupito anche i nostri telespettatori con queste offerte uniche quindi ricordiamo 100 vetture a prezzi irripetibili con sconti imperdibili passiamo ora al nostro grande SUV opel grandland x disponibile anche qua con vetture chilometro zero aziendali abbiamo poi anche una grossissima novità che è grandland x versione ibrida con 300 cavalli abbiamo una vettura addirittura con uno sconto superiore al 40 per cento poi abbiamo una grandland turbo diesel disponibile e anche questa è una vettura aziendale con uno sconto oltre il 50 per cento e poi tutta la gamma delle chilometri zero quindi con diverse motorizzazioni diversi colori diversi allestimenti disponibili quindi quelle famose 100 vetture chilometri zero abbiamo anche appunto per il nostro grande sub quindi opel grandland x anche per grandland x fabrizio ci darà qualche nota qualche informazione diamo qualche dettaglio tecnico anche di queste vetture questo ad esempio un grandland x design line è un benzina 1200 turbo con cambio automatico a otto rapporti e mezzo di circa quattro metri e mezzo già in questo allestimento che è quello che tra virgolette aiuta di più a risparmiare i nostri clienti il mezzo è già molto molto completo quindi cerchi in lega barri al tetto sensori di parcheggio retrocamera sedile agere composizione di riposo luci led fendi nebbia auto molte complete molto spaziose molto comode con consumi ottimi a prezzi davvero tanto tanto convenienti quindi vetture complete di tutto praticamente full optional clara abbiamo tutto su queste vetture ma soprattutto quello che è importante è il prezzo quindi sconti fino al 50 per cento opel grandland x venite a trovarci www.automax spa.it e fissate chiaramente gli appuntamenti con il nostro call center allo 0 3 1 3 1 1 0 1 3 1 novità assoluta di casa opel nuova opel mocca disponibile con varie motorizzazioni e vari allestimenti 1.2 benzina 1.5 turbo diesel cambio automatico o cambio manuale ma la troviamo anche in versione green che non è solo il colore ma è anche il motore perché è totalmente elettrica quindi 300 chilometri autonomia oltre i 300 chilometri autonomia una vettura con 50 kilowatt e con dei consumi e dei risparmi unici quindi nuovo opel mocca totalmente elettrica nuova mocca e cosa importantissima qui da noi solo da autobus le trovate in pronta consegna quindi telefonate allo 0 3 1 3 1 1 0 1 3 1 oppure andate sul nostro sito www.automax spa.it per guardare configurare fissare gli appuntamenti venirle a provare a provare perché chiaramente queste vetture sono da provare fissiamo i test drive e le vetture sono tutte in pronta consegna nuova opel mocca e quindi parlando sempre delle nostre 100 autovetture abbiamo anche opel astra disponibile chiaramente diverse motorizzazioni diversi colori cambio manuale o cambio automatico sport tourer o berlina cosa importantissima troviamo sia delle chilometri zero troviamo delle aziendali con sconti oltre il 40 per cento quindi fino al 45 per cento di sconto opel astra fabrizio il volo volante che abbiamo pochissimo tempo abbiamo poco tempo allora descriviamo questa astra gs line sport tourer un'auto molto comoda per la famiglia ideale per i viaggi lunghi per esempio per queste vacanze estive che ci aspettano per un ritorno alla normalità luci led cerchi in lega vetri posturi oscurati circa 1500 litri di capacità totale di carico abbattendo i sedili un mezzo comodo e vantaggioso con dei consumi veramente in linea con quelle che sono le esigenze di una famiglia moderna ampia scelta di chilometri zero in pronta consegna anche per tutti i nostri veicoli commerciali opel corsa n1 45 posti opel combo opel vivaro e opel movano sia nella versione furgone l2 o l3 sia nella versione cassonato fisso ricordo sconti fino al 45 per cento su tutto il nostro parco di veicoli commerciali beh un ringraziamento a giulia fabrizio lorenzo e quindi noi vi aspettiamo qui veramente venite a vedere tutte queste splendide promozione da non perdere assolutamente quindi vi ringraziamo per averci seguito l'offerta ricordiamo 100 auto chilometri zero a prezzi irripetibili e ringraziamo quindi i colleghi fabrizio e la nostra giulia del bdc che ricorda anche il numero di telefono per chiamarci 031 311 0131 buonasera a tutti e grazie ciao ciao